La serie di film di John Wick, con Keanu Reeves nel ruolo del protagonista, offre numerosi insegnamenti che possono essere applicati nella vita di tutti i giorni. Ecco 10 lezioni che possiamo apprendere da John Wick. Determinazione, John Wick dimostra un'incredibile determinazione nel raggiungere i suoi obiettivi, superando numerose difficoltà lungo il percorso. La determinazione è fondamentale per avere successo in ogni ambito della vita. Preparazione, Wick è noto per essere preparato per ogni situazione, sia nel combattimento che nella pianificazione delle sue missioni. Prepararsi adeguatamente aiuta ad affrontare meglio le sfide che incontriamo nella vita quotidiana. Adattabilità, John Wick si adatta rapidamente a nuove situazioni e riesce a trovare soluzioni ai problemi che si presentano. L'adattabilità è una skill essenziale per sopravvivere e prosperare in un mondo in continuo cambiamento. Gestione dello stress, nonostante le situazioni estremamente stressanti in cui si trova, John Wick riesce a mantenere la calma e a concentrarsi sui suoi obiettivi. Imparare a gestire lo stress è cruciale per mantenere un equilibrio nella vita e affrontare le sfide con successo. Perseveranza, John Wick non si arrende mai, anche di fronte a ostacoli apparentemente insormontabili. La perseveranza è una qualità fondamentale per raggiungere i propri obiettivi e superare le difficoltà. Fiducia in se stessi, Wick è un personaggio sicuro di sé e delle proprie abilità. Avere fiducia in se stessi è importante per affrontare le sfide con coraggio e determinazione. Lealtà, John Wick dimostra una profonda lealtà nei confronti dei suoi amici e alleati, proteggendoli e aiutandoli quando ne hanno bisogno. La lealtà è una virtù importante che rafforza le relazioni e crea un senso di appartenenza. Importanza degli obiettivi, John Wick è guidato da obiettivi chiari e ben definiti che gli danno un senso di direzione e di proposito. Avere obiettivi ben definiti nella vita ci aiuta a concentrarci sulle nostre priorità e a lavorare con passione per raggiungerli. Rispetto, anche se John Wick è un assassino spietato, dimostra rispetto per i suoi avversari e per le regole del mondo in cui vive. Il rispetto per gli altri e per le loro opinioni è fondamentale per costruire relazioni positive e per vivere in armonia con chi ci circonda. L'importanza delle relazioni umane, nonostante il suo stile di vita violento e solitario, John Wick mostra come le relazioni umane siano fondamentali. La perdita del suo amato cane è ciò che scatena la sua vendetta, mentre l'amicizia e la lealtà degli altri personaggi influenzano profondamente le sue scelte. Le relazioni umane sono essenziali per il nostro benessere e per dare un significato alla nostra vita. In sintesi, la serie di film di John Wick offre numerosi spunti e lezioni di vita che possono essere applicati nella nostra quotidianità, come la determinazione, la preparazione, l'adattabilità e l'importanza delle relazioni umane.